Ciao di nuovo a tutti. Sono tornato per un altro video. E per il video di oggi, ti mostrerò come cambiare il tuo nome utente su Spotify. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo. Esistono due tipi di nomi utente su Spotify, quello che non puoi modificare e l'altro che è anche chiamato nome visualizzato che puoi modificare. Quindi lascia che ti mostri prima il nome utente che non puoi cambiare. La prima cosa che devi fare è aprire la tua applicazione. Quindi tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra. Tocca un conto. Quindi c'è il nome utente che non possiamo cambiare. È un insieme di lettere e numeri casuali che ti sono stati dati quando hai creato il tuo Spotify. Spotify non ha ancora portato alcun aggiornamento su questo. Quindi passiamo ora all'altro nome utente che possiamo modificare. Torna alle tue impostazioni. Quindi tocca il tuo profilo. E tocca in modifica profilo. Basta toccare il tuo nome e ora puoi inserirlo e modificarlo. Quindi tocca in salvan una volta che hai finito. E questo è tutto. Grazie per aver guardato.